Siamo partiti da Scopelos Porto e stiamo dirigendo a Schiatos. In fondo, come al solito, nuvole. Anche se la giornata è bellissima, poi si formano nuvole. Comunque, in queste isole, l'estate si sa che ogni giorno c'è un temporale, va bene. Naturalmente siamo insieme ad Aldo e lì, dietro di noi, ci segue a poca distanza. Ecco il faro di capo Guruni, spero di pronunciarlo in modo adeguato. Guruni di Scopelos. In fondo si vedono isole e isolette, la più grande delle quali, quella proprio di Prora, è Schiatos. Scopelos, no scusatemi, Schiatos, che vergogna ogni volta sbaglia. Grazie a tutti! Grazie a tutti.